Il teatro è il mio lavoro quotidiano senza naturalmente nulla togliere all'importanza di cui ho avuto la fortuna di farlo in cinema, però mi piaceva rimarcare questa origine e questo amore che continua ad essere molto forte per il teatro, perché il teatro per un attore è una condizione essenziale, ripeto, per conoscere intimamente e quotidianamente se stessi, ma non ho auguri da fare, posso dire che io quando ero molto giovane ho deciso di fare questo mestiere condividendo questa passione insieme a molte altre qualità, per fare gruppo che scegliere dei compagni di strada con cui lottare, con cui condividere, con cui è una condizione opposta a certe solitudini da internauti che molti ragazzi hanno oggi e credono che il mondo è in casa e invece bisogna uscire di casa per incontrare il mondo e il teatro offre questa opportunità perché è un scambio umano che si fa non da soli ma insieme ad altri, e quindi bisogna uscire di una piccola comunità che si fa sentate. Grazie Grazie Grazie